buon salve cari pixelini e benvenuti e bentornati in questa nuova fantastica avventura dove andremo a spacchettare il calendario dell'avvento di lego harry potter ragazzi mamma mamma ma se la lego stesse vedendo questi video sponsorizzatemi altrimenti vi crucio ma ragazzi non si crucia nessuno oggi andiamo ad aprire il prossimo personaggino ieri è aperto 16 oggi tocca al 17 con la solita magia andiamo magicamente a fare abracadabra all'onora si è aperto davvero mamma mamma ma devo vedere cosa c'è dentro l'ultimo standardo che mancava ragazzi lo standardo di tasso rosso mamma mamma ma andiamo a usare l'altra magia quella che non mi viene mai anche oggi mi è venuta ultimamente sono molto bravo a spacchettare se volete portarmi dei pacchetti o altro dalla mia lista acquisti amazon qua sotto in descrizione trovate tutto così come trovate le istruzioni per il giveaway per poter vincere questo fantastico calendario un pezzo che non vuole uscire eccolo qua è uscito il giveaway per vincere tutto questo calendario trovate le istruzioni qua sotto in descrizione dovete andare a commentare il video del primo dicembre mamma mamma ormai questo l'ho imparato questo è un pezzettino però andiamo a mettere questo qui e poi questo qua eccolo qua lo standardo di nostra casa carina tasso rosso ma adesso io voglio il grifondoro che tra l'altro è la prima uscita eccola qua qua abbiamo le istruzioni per andare a costruire questo caso carino 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 e qua abbiamo lo standardino con un pezzetto che avanza mam mamma ma ragazzi direi che per oggi è tutto ci vediamo domani per il prossimo video oggi era 17 andiamo a cercare la casellina 18 che è tipo da qualche parte non la vedrò mai ragazzi voi la vedete se l'avete vista prima di me ditemelo eccola qui la casellina numero 18 mi devo ricordare che è tra il 4 e il 13 non me lo ricorderò mai per oggi è tutto ci vediamo nella prossima avventura cioè domani al solito orario per il 18 per oggi è tutto che altro dire fatto il misgatto mamma o se anche tu come me non puoi più vedere dei poveri ipogrifi incatenati se anche tu come me non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici allora iscriviti al canale del pixel matto potrai trovare ricette gameplay notizie poteriane e molto altro ancora cosa aspetti iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video il fantastico mondo di harry potter ti aspetta musica 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 musica